Roma e Juventus mantengono intatte la leadership del campionato di Serie A. La quarta giornata ha visto il successo dei bianconeri per 3-0 sul Cesena con le firme di Vidal, Doppietta e Liechtensteiner. I Gianno Rossi solo nel finale vincono a Parma 2-1 Ljanic e Pjanic con in mezzo il pareggio parmense di Beceglie. Continua la crisi di risultati del Napoli 3-3 in Ancasa dal Palermo, mentre l'Inter con Osvaldo e la strepitosa punizione di Hernanes affondano l'Atalanta. Il Torino va col bacio a Cagliari così come la Sampa sul Chievo, mentre Verona Genoa si chiude con un divertente 2-2. Unico 0-0 di giornata Fiorentina Sassuolo. Stasera il turno si completa con Lazio Udinese.